Non ha ancora preso ufficialmente posto negli uffici del Palazzo di Circonvalazione Ragusa, ma il nuovo manager dell'Asle di Teramo, Roberto Fagnano, ha già avuto la prima presa di contatto con gli operatori della sanità dei quattro presidi ospedalieri teramani. L'insediamento ufficiale dovrebbe esserci tra una settimana, intanto questa mattina soddisfazione è stata espressa da parte dello stesso Fagnano che si è detto pronto a raccogliere la sfida di risanare la sanità teramana. Io l'ho accolta con sorpresa e grande responsabilità, sia perché questa nomina è stata fatta non, come ho detto, per chi si conosce, ma per quello che si conosce. Il metodo che è stato inaugurato e confermato dal Presidente e dall'assessore della sanità credo che sia un metodo utile a tutti, il confronto, la partecipazione. Oggi abbiamo iniziato a confrontarci con gli operatori, ci sarà modo di confrontarsi anche con i cittadini, che poi sono gli utenti finali veri del servizio sanitario. Io credo che quella di Teramo sia una buona ASL, che eroga una buona sanità. È chiaro che può migliorare, ha una serie di limiti legati forse alla posizione territoriale, di cui forse è un po' vittima e proprio per questo, e intendo anche un pochino per la mobilità passiva, almeno quello che si legge, ma l'erogazione di una migliore sanità alla fine ci consentirà anche di fronteggiare questo fenomeno che poi all'Abruzzo costa anche un pochino.